Ore 12 puntuali, anzi puntualissime, al comune di Giulianova ecco le liste, il quadro è completo, 18 sono le liste presentate. La sfida elettorale ha fatto scendere in campo i suoi nomi, la coalizione di centro-sinistra, patto per Giulianova, al sostegno della candidata sindaca Alberta Ortolani è composta da cinque liste, vale a dire PD, Movimento 5 Stelle e tre civiche, ovvero cittadino governante per cambiare, per Giulianova con Alberta Ortolani sindaca e Giulianova insieme. La presentazione dei candidati nel pomeriggio nel Palazzo Cursal. Il polo civico che supporta la candidatura sindaco di Romolo Lanciotti presenta due liste civiche, vale a dire la lista dei giovani Insider e Giulia Unita. Eccoci alla centro-destra del sindaco uscente Ivan Costantini che si avvale dell'appoggio della Lega, di Forza Italia, di noi moderati e di altre sei liste civiche. Vale a dire Giulianova, turismo, idee e obiettivi, crescita, Ivan Costantini sindaco, lista verso Giulianova in movimento. Infine la lista NOS NOI a sostegno di Daniele Di Massimo Antonio con Unione Popolare e Sinistra Italiana.